Buonasera dallo Stato Olimpico di Roma, un saluto vecchio celeste da parte di Luigi Sinibaldi è uno degli anticipi della quattordicesima giornata di campionato della massima serie italiana da Lazio a fronte in casa il Cagliari Lazio pronta per battere il fischio d'inizio di questo match, via, partiti per questo primo tempo subito il lancio da parte di Mario Chila sempre lui, pallone lungo verso Lazzari ancora lui, poi ritrova il pallone Lazzari, tutto buono ancora Lazzari dentro per Pedro e gol del vantaggio della Lazio con Pedrito all'ottavo minuto di gioco l'assist di Lazzari, Pedro è stato famelico davanti alla porta di Scuffet 1-0 sta per fischiare Dionisi, eccolo il fischio va lui, Salberto Scuffet non si è mosso, ha stoppato il pallone quindi il cross è di Goldaniga la padula, il pallone che finisce sul fondo la padula, cercato il colpo di testa due passi da prove del Immobile fa la sponda, poi spunta anche Isaksen Isaksen, sempre lui, ancora Isaksen cerca il numero, poi c'è del pallone Immobile una finta, Pedro, Pedro Scuffet poi possibilità per il lancio lungo di Isaksen per Gendusi, messo a terra attenzione, attenzione mano in tasca giallo non c'è ma c'è il rosso rosso per Makumbu sul pallone c'è Isaksen che mancino va Isaksen il pallone che va a sfidare la traversa al ventottesimo Gustav Isaksen resiste ancora Luis Alberto gran palla, Immobile attenzione, bloccato ancora Luis Alberto ancora per Immobile di tacco Cataldi, la piazza Scuffet la panata a terra da parte del portiere sudinese Spezie l'arbitro si trova sulla traiettoria del pallone ancora Pedro che avanza ancora Pedro, deviazione sempre Immobile alla rigore Immobile, Immobile, Immobile Immobile pallone sul fondo altra chance per il 2-0 della Lazio cercato di incaponirsi in piena area c'è Immobile occhio al danese cerca il cross buono sul secondo palo occhio Felipe Anderson palla dentro occhio palla che rimane là non riesce a mettere il pallone in porta Tati Castellanos il cross Lovumbo in piena area occhio a Lovumbo cerca di operare il cross l'inviazione Provedel ma che parata ha fatto ma che parata ha fatto Provedel pallone lungo di testa prolunga Petagna poi Lazzari occhio pallone che sta per finire in porta e palla che finisce sul fondo incredibile disattenzione e pallone che finisce sul fondo dopo il tocco di Oristanio e finisce qui l'incontro ha vinto la Lazio ha vinto grazie al gol di Pedrito all'ottavo una partita incredibile Grazie a tutti